Salve a tutti ragazzi, sono Saperio Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, siamo tornati qui con un nuovissimo episodio dedicato alla carriera, alla natura di Siramondo, siamo con il Crystal Palace, come potete vedere le cose stanno andando da D.O. Non ho ancora visto però i commenti che vi avete lasciato nell'episodio precedente dove abbiamo concluso il calcio al mercato, mi raccomando, se ve lo siete persi è andato a recuperare, perché la squadra secondo me si è rinforzata. Abbiamo perso due giocatori importanti, ma nel complesso la squadra è più completa, è più forte, solida, quindi speriamo le cose possano continuare così, la società per il momento è contenta, 99 di overall era tanto che non lo raggiungevo. Oggi si gioca, si simula, prettamente direi che in questo ottobre ci giochiamo il Liverpool, tenendo d'occhio un attimo l'Aston Villa, ma direi che sì. Ci giochiamo il Liverpool e poi passiamo direttamente a novembre, scusate, non so perché dopo ottobre ci dovrebbe essere a settembre dove c'è il Leicester, insomma, si gioca un pochettino di più a novembre. Cofietta e le orecchie, sono già pronto, e si va dentro con la parete contro il Liverpool, abbiamo già giocato contro il Liverpool, abbiamo pareggiato contro il Liverpool, adesso però dobbiamo spaccare. Vado in capo così, serve sul pezzo, forza, Crystal Palace. Ok Doliz, se ne va Robertson, bravissimo. Ma il Liverpool mi sembra scoperto o pare a me, palla di Olise per Gallagher, il contro... Eeeh, cioè, non lo so. Rigore netto, rigore nettissimo. Quindi aveva dato una stecca, aveva dato una botta niente male qua. Gallagher l'aveva controllata, poi Van Dijk ha tirato su tutto quello che poteva tirare su. Allora, qui mi dà Eze come battitore, direi di sì. Direi di sì, incrociamo con questo bel destro che ti ritrovi. Questa era una buona occasione da non sprecare. Occhio al salto della quaglia. Salah se l'ha mangiato. Salah se l'ha mangiato, ragazzi. Olise fa fuori ancora una volta Robertson, Gallagher. Pomical, occhio ad Eze, ha un rigore da farsi perdonare. Bellissima la palla per Olise, col maicino piazzato! C'è il vantaggio del Crystal Palace. Siamo letali, siamo letali, ragazzi. Siamo letali. Cosa vi avevo detto? Che i trequartisti avrebbero segnato da morire. Molto più della nostra prima punta. Ma perché la nostra prima punta fa i movimenti, porta via gli uomini. Si è tenuto il numero 5, verissimo, eh. Addosso. Spettacolo, spettacolo. Trovo ad attaccare il Liverpool. C'è il pareggio di Momo Salah, questa volta non sbaglia. E qui non ho capito perché non è intervenuto Gai. Peccato, perché eravamo sulla traiettoria. Cosa? L'ha fatto Olise? Non ci sta capendo niente, Robertson, eh. Olise, fino in fondo. Poi metterla in mezzo. Occhio alla sponda! Con Beto! Non ci credo. Ma Galagher è una lentezza disumana, disarmante quasi. Non ci credo. Che salvataggio finale. Allora, Olise non ci sta facendo capire nulla. Ah, Robertson. Spurtiamo un attimo quella fascia lì. Beto. Bereze. Occhio ragazzi perché l'ho visto. L'ho visto, Betone! L'ho visto, Betone! Beethoven! Beethoven! 2-1 è tutto buonissimo! Avanti il Crystal Palace! Con un gol! Al Beethoven! Sì! Sì! Quando c'è... Ho visto una testa! Ho visto una testa in mezzo a un petto ragazzi. È possibile? Quando Beto prende sto campo qui è infermabile. Infermabile. Siamo di nuovo... Ma che cazzo vuol dire autogol di Alexander Armog? Mi scusi. Ma questo è un gol di Beto ragazzi. Va! Stava bova! Scurzente la farena! Va là! Oh, Pomi! Vediamo se questo può essere considerato gol di Beto. Beto! 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 Questo è tutto di Beto! 3-1 Crystal Palace! Di arrabbiatura! Di arrabbiatura! Di cattiveria! Incazzatissimo per il gol che non gli è stato dato in precedenza! Ricupero palla di Pomical! Verticalizzazione istantanea! Con Beto che non lascia scampo! Senza parole! Senza parole! Cambio per il Liverpool! Dentro ma ne fuori Luis Diaz! Noi restiamo così perché siamo fantastici! Occhio ma negra bara! E Alberto Moreno! Ne esce così! Ragazzi! Ma che cacchio ce ne trega! Abbiamo vinto! Abbiamo battuto il Liverpool! Non ho parole! Non ho parole! Qualcuno ci vada! Oh Cristo! A un certo punto qualcuno ci vada! Tengo premuto il triangolo per far uscire il portiere! Voglio premere il tondo! Cioè qualcuno ci vada alla fine! Cavolo! Non c'è dato nessuno! C'è un pallone lì che volava nel mezzo dell'area! E niente! Finisce qui! Finisce qui! 3-2 al Liverpool! Liverpool che non sta vivendo un buon momento! Anche nella realtà! Dopo aver subito 4 pappine dal Napoli! E aver faticato anche contro l'Ajax! Si becca pure questa sconfitta! Con il Crystal Palace! Questa è una parità enorme da parte dei nostri! Non sono andato a vedere i voti! Non so perché! Sinceramente! Ma solitamente lo faccio sempre! Però è una roba fuori di testa ragazzi! Una roba fuori di testa! Cioè in questo momento secondo me siamo la miglior difesa! 8 gol subiti! No! E il Manchester United! E anche il Tottenham! E poi c'è anche il Southampton! Insomma! Bene secondo me però! No? Siamo decisamente in linea con i top! Magari segniamo un pochettino di meno rispetto al Liverpool! Ma ci può stare! Primo gol stagionale per Olise! Adesso abbiamo l'Aston Villa! E poi come al solito ricordiamo che simulerò parecchio! Esempio! Questa partita contro l'Aston Villa nonostante abbiano una buonissima squadra! Mi sentirei dissimularla! Giusto per far giocare anche qualcuno di diverso! Poi è ovvio che li vorrei anche provare! Brooks sempre titolare! Io alla fine ci posso stare! Vediamo! 2-0! Xaka e Gallagher! Gallagher è arrivato al posto di Brooks! Quindi in zona offensiva! Buono! Buonissimo 2-0! E adesso abbiamo il quarto Tullo! Il Tullo! Ho letto Millwall! E ho letto Tullo! Oltre il Millwall il quarto turno di FL e FL Cup! Non voglio sorprese ragazzi! Sinceramente! Faccio un po' di cambi ma non voglio sorprese! Oggi spazio a Yooks in Mattetà! Vediamo un attimo! Iniziamo 3-1! Tripletta di Mattetà! Grande Matita! Bravo Matitone mio! Si va! Si va! Si vola! Si vola! Si vola! Bellissimo perché mi posso fidare di questa squadra! L'ho detto! Adesso che l'ho detto! O col Watford! Lo prendiamo nel sacco in maniera preponderante! Anche perché vuoi non perdere contro questo Watford qui? Certo che perdi! Però ci vado con tutta la titolare a sto giro eh! Ragazzi! Cioè questo gioco qui lo conosco come le mie tasche! Lo conosco come le mie tasche! Veramente un peccato però va bene così! Va bene lo stesso! Può capitare! Può capitare! Allora c'è Amo che mi rompe un po' le palline! Contro l'Ester si gioca! Sempre! Sempre una bella partita! Quindi! Fuori Olise! Dentro Amo! Tosta! Tosta la faccenduola! Va in bamba! Ok! Ci siamo signori! Andiamo in campo così! Sempre sul pezzo Forza Crystal Palace! Eagles contro Foxes! Chi vincerà? L'Aquila? O la Volpe? Chi vincerà? L'Aquila? O la Volpe? Mmm! Certo gli do una stecca grande come una casa! E partiamo subito così! Conoscenza! Intima! A parte di malo gusto! Olè! Amo! Malo gusto! Può spingere dalle parti di Beto! Che la col... Non mi fa... Non mi prende Brooks ragazzi! Non mi ha preso Brooks! Me l'ha preso all'ultimo il salato di testa! Invece di dare una legna col mancino! Non me lo prendeva! Vantaggio l'Eister! Con Gerard Moreno! Allora la giocata che avevo letto e straletto! Poi però non sono riuscito a chiuderla! Mi sono mosso male con la difesa! Avevo letto questa palla in profondità! Bella questa palla per amo! La controlla prova a passare in qualche modo fuori da Eze! C'è spazio per Pomichael! Ci può provare! Non incualda lo specchio! Occhio! Occhio! Mamba! 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 E poi Gerard Moreno-Grabara! Un attimo in difficoltà quest'oggi! Ma perché Beto batte? Tutto buonissimo! Ma che... 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 Vabbè! Non c'è! Eze! Uno scorpione di Eze per rimetterla in mezzo! Non ho parole! Va bene! Occhio Brooks perché recupera un ottimo pallone! Al centro... C'è Beto ma viene servito... Eze! Poi Gallagher da fuori! Gulaxi! Bravo un bambone! Sì una gran chiusura! Bravo! Bravo Pepp! Gallagher! Brooks! Beto! Ancora Gallagher! Sale parecchio Gallagher! Cerca un aiuto! Niente! Oggi Gallagher è una pena! Allora cambio anche... Modulo! 4-3-1-2! Brooks dietro le punte! Dentro Mattetà! E... Facciamo entrare anche Olise! Bravo Pomi! Ennesima palla recuperata! Attenzione perché c'è Brooks in ottima posizione! E sono giocatore del Crystal Palace! Bettila bene! Beto! Pareggio Crystal Palace! Pareggio Crystal Palace! Il Leicester colpevolmente scoperto! Colpevolmente scoperto! Aspettate un attimo! Va là! Perché questo modulo lo posso anche tenere! Ma quel cazzo che metto dentro Olise! Eccoci! Eccoci! Ma io metto dentro anche... Anche Hughes! Ho finito le sostituzioni! Va bene! 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 Bellissima! Bellissima! Dicevo Leicester colpevolmente scoperto! Brooks ha dato questo pallone in mezzo molto lungo! Gulaxi non può intervenire perché è molto potente e tagliato! E verso la seconda parte dell'area! Bravissimo! Eze! A fare questo assist in mezzo per Beto! Che colpisce! Adesso per la prima volta vedremo in campo... I nostri due punteri! Insieme! Ma porca! Mamma gravara! Su Gerard Moreno! Che è un cecchino veramente! Ho provato a tirarla via questa volta ma... Lentissimo a Teta nel farlo! Vai! Beto! Assist di Matteta! Ce l'abbiamo fatta ragazzi! Sembrava una partita stregata! Stregata! Sembrava veramente una partita stregata! Siamo riusciti a riprenderla! Ho atteso il movimento giusto di Beto! Finta di andare verso il centro! Finta di movimento di andare verso il centro! Poi! Ci si allarga un attimo! Poi ragazzi! Dobbiamo descrivere veramente il mancino! Ok! Per fortuna siamo riusciti a pareggiarla raga! Perché una sconfitta oggi mi sarebbe pesata veramente veramente tanto! Perché non abbiamo giocato male! Non abbiamo giocato male! Bravo Beto! Doppietta per lui! Anche questa idea di avere due punte nel momento del bisogno non mi dispiace! E' vero che sono due prime punte atipiche! Nel senso farle giocare insieme è un rischio! Ok! Amichevoli internazionali le andiamo a simulare! Contro l'Argentina e Australia! Stop delle nazionali! E poi avremo l'Arsenal! Contro l'Argentina pareggiamo 1-1! Contro l'Australia pareggiamo 2-2! Benissimo! Arsenal dunque! Società sempre molto contenta! Programma di crescita! Grabara! Ottimo! 79! No! 80! Figlio mio! Bravo! Diamo un'occhiata anche ai pieni di crescita! Perché qui comunque si cresce! Non so chi sia! Qua si cresce e si gode anche! 17 settimane! Oh! Miglioriamo la finalizzazione di Eze! Bene Brooks! Ok! Amo! Abbiamo veramente una bella squadretta! Occhio poi a... Benissimo! Piede debole! Migliorato! Che pagliacciata però! Era 3! Allora miglioriamo anche le stelle emossabilità per favore! Grazie! Con Mateta che sta per arrivare all'80! Godo! Estragodo! In classifica siamo... Quinti! Difficilissimo tenere il loro passo! Abbiamo l'Arsenal! Così! Signori! Andiamo in campo! Sempre sul pezzo a volta a Cristal Palace! Comunque! Nonostante la... Vabbè! La vittoria contro il Liverpool! Nonostante il pareggio contro l'Est era un po' rocambolesco! Io mi sto divertendo la faccia! E anzi vi dirò che non... Quasi non mi sono mai divertito così tanto! Cioè questa carriera allenatore mi sta dando sensazioni sempre nuove! È incredibile! Questa è una carriera allenatore ragazzi! È la carriera di Coach Menzo! E devo dire che anche Beto... Bravissimo! Si è... Si è presentato molto bene Brooks! Siamo avanti! Siamo avanti ragazzi! Non ho parole! Non ho parole! Ma la palla di Brooks? R1 tondo! Fantastica! Fantastica! Bravo l'Ise! Noi partiamo talmente bene in ogni partita... Che poi siamo... I nostri avversari sono costretti sempre 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 a inseguire! Urca boia! Peccato! L'intervento era buono! Gravara! Buono! Occhio a Saka! Gravara! Ese! Dribbling! Passa dal centro dove c'è Beto e si attende come al solito all'arrivo o di Ferrari usano o di Brooks! Servito il primo! Ecco anche il secondo! Brooks! Piano piano per Beto! Palla deviata! La trusty! No! Lui ha il pallone! Me lo fai rivedere per favore? Vabbè che ormai la decisione è presa però... Io ho fatto proprio l'intervento non per steccarlo questa volta... E lo direi tranquillamente... Visto che la maggior parte delle volte io lo faccio per steccare... Io ho fatto questo intervento per cercare di anticipare... Visto che sapevo che mi sarebbe sfilato... Per cercare di anticipare il pallone! Che prendo? È vero che qui piglio anche GEDESH... Però... Esatto! Questo era il mio obiettivo! Questo era il mio obiettivo! Purtroppo tocco anche GEDESH... Ma non è rigore! Ma porra... Che mignotta! Come gli europei! Saka! Suka Saka! Suka Saka! Suka Saka! Ah! Grabara! Niente Saka c'ha questo incubo nei rigori contro gli italiani... Che... Lo perseguiteranno per tutta la vita poraccio! Nel frattempo un bel Suka Saka... Ci sta tutto! Attenzione alla ripartenza di Eze! Per Brux! Siamo una squadra fortissima! Boom! Tappiato di Ulisse! L'avevo visto! L'ho atteso! L'ho servito! 2-0! Dopo il rigore sbagliato! Dall'Arsenal li purghiamo! L'avevo visto ragazzi! Sono andato dritto avanti più che potevo! In modo che Ulisse si... Smarcasse! E così è stato! Siamo avanti! 2-0! Faccio una fatica della madonna! Non sembra! È vero! Non sembra! Io capisco chi dice! Ma non è troppo facile ragazzi! Le volte che io... Tutto quello che non vi faccio vedere... Sono bestemmie! Ok? Lo voglio ammettere! Sono bestemmie! Perché non mi riescono le azioni! Perché i giocatori mi chiudono! Cioè... È vero! Voi magari la maggior parte delle volte vedete solo i gol! Però credetemi che io... Sono con l'asciugamano! Che impatto di Ulisse! Che fortuna che non mi aveva convinto comunque! Oh! È la madosca! Chi è questo pomical? Ci speriamo! Vabbè! Vabbè! Ma dai! Vabbè! Vabbè! Ma dai! Ma non ha senso! Non ha senso! Ma non ha senso ragazzi! Ma non ha senso! Ma non ha senso! Paxton Pomical è un... Dio! È un dio! Paxton Pomical è un dio! Punto! Finisce qui ragazzi! Finisce qui! Battiamo 3-0 l'Arsenal! È un momento di forma clamoroso! Un po' mi ricorda... Non è un berlino questa squadra! O il Friburgo! Quello che stanno facendo adesso nella realtà è molto molto importante! Non so quanto durerà! Non so quanto durerà! Ma per il momento ci godiamo assolutamente! Questo momento! Non si sa perché Grabara sia il migliore in campo! Con Ulisse che fa una doppietta! Brooks che fa l'assist! Non so! Fa lo stesso! Noi ci godiamo il momento! E non ci interessa di niente! Giochiamo spensierati! È questa la nostra forza! Forza! Giochiamo spensierati! Nonostante questo la vittoria della Premier League è assolutamente impossibile ragazzi! Voglio essere chiaro! Cioè stiamo facendo risultati clamorosi e non abbiamo ancora visto la prima posizione! Ma non mi interessa vincere la Premier League! Come detto letteralmente impossibile! A questo punto boys! Io direi di non chiudere l'episodio! Di andarci a simulare Burnley e Sheffield! Per poi nel prossimo episodio giochiamo al Manchester! Facciamo come al solito qualche cambietto! E minchia! Galaga ha diventato un 85! E niente! Contro il Burnley! 2 a 2! Dobbete di mattietà! No! Guardate chi ci ha segnato! Boving! No! Boving bastardo! Come si intrezzano queste storie! E poi lo Sheffield! Ecco con lo Sheffield facciamo più turnover! Proprio la rischio totalmente! Se va bene meglio! Se va male Amen! Pareggio! Matità! Peccato che non riusciamo ad andare oltre questi pareggi! Non sono sconfitte per carità però... Signori a questo punto... Signori a questo punto... Perché sono sul primo... Sì non ti prego... Cento! Cento di overall! Cento di overall! Cento di overall! Signori! È la prima volta che raggiungo cento di overall in live qui su YouTube! Signori! In un episodio registrato! Non mi era mai capitato! Ce l'abbiamo fatta! Anche questo obiettivo l'abbiamo raggiunto! Sono molto molto contento! Giusto per chiudere in bellezza... Ci andiamo a vedere un attimo i dati... Dei miei calciatori! Aspetta abbiamo 6 gol all'attivo! Con una buonissima media voto! Matità 7 gol! Matità 7 gol! 8 ore di partire da giocare! Molto da subentrato però! I nostri... Alla fine no! I nostri decoltisti segnano più che altro fanno tanti assist! Tra di loro si assisteggiano! Molto bene anche Gallagher e Pomical! Vizzetto del gol per questi due centrocampisti centrali! E Gravara! Media voto di Gravara! 7,10! Spettacolo! Signori! Ci salutiamo! Grande episodio anche questo! Nel prossimo ci sarà ancora da sudare! Abbiamo le due squadre di Manchester! Abbiamo un dicembre pienissimo! E siamo praticamente già a gennaio! Vediamo cosa riusciamo a fare nel prossimo episodio! Noi ci salutiamo! Spero ovviamente che questo vi sia piaciuto! Grazie per il supporto! E viva il centro di Overhaul! Andiamo!